Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo come sempre, ben ritrovati qua nel solito disordine della mia libreria, da me, dal solito giubbino da combattimento e dalla mia maglietta storica degli Hellhammer, una chicca per chissà di metallo putrescente marcio e cattivo, ok? Allora, cari signori, torniamo seri compatibilmente con i limiti del personaggio. Allora, oggi è l'8 settembre, una data che, insomma, come ben sapete è quella dell'armistizio che pose fine o perlomeno avrebbe dovuto porre fine alla partecipazione italiana alla seconda guerra mondiale, ma ahimè andò come andò. Con l'amico Paolo Alpini, con l'indispensabile e il preziosissimo aiuto dell'amico Paolo Alpini, ho pensato di farci sopra un video. Quindi, cari signori, sturatevi un attimino le orecchie e statemi bene a sentire, ok? Allora, la solfa del mitico tradimento. Ogni 8 settembre la solfa del mitico tradimento. Allora, con l'amico Paolo Alpini abbiamo avuto una interessante discussione nella quale è saltato fuori più o meno il concetto che il, vabbè, il concetto di tradimento è più una cosa morale che politica. Non è, insomma, roba da stati, non è roba da stato, insomma. Va bene per gli innamorati, per i tribunali militari e cose simili. Per gli stati, sotto sotto, siamo ancora fermi a Machiavelli. Quindi, in parole povere, gli stati tendono a farsi gli affari propri senza troppi complimenti. Consiglio, dice l'amico Paolo Alpini, di smettere di leggere quello che scrivo e anche di ascoltare quello che dico io a chi fa confusione, e ripeto, confusione tra scelte personali e morali, un conto, e le scelte dei governi. Allora, percorso tematico. Come i principali alleati europei di Hitler cercarono di mollarlo? Si comincia col fallimento ungherese. La Germania scopre che l'Ungheria cerca di trattare con gli alleati e il 19 marzo 1944, con l'operazione Margarete, occupa il paese. Si riparte con la Romania il 20 agosto 1944, inizia l'offensiva sovietica, Yasi Kisinau. Il 23 agosto 1944, il re di Romania, Silura Antonesco, e nella stessa giornata chiedono la pace e congiuntamente si alleano con i sovietici contro i tedeschi e a quel punto un pezzo dell'Armata Rossa punta verso la Bulgaria. I Bulgari, quando arriva l'Armata Rossa, si trova in una situazione esplosiva. L'opposizione politica preme per ottenere l'abbandono dell'alleanza con la Germania ed un cambio di fronte. C'è un nuovo governo, ma è pieno di filo nazisti e nessuno in Bulgaria gli crede. Figuriamoci i sovietici che a quel punto dichiarano guerra alla Bulgaria. E riparte la fronda per cambiare fronte. Tra l'8 e il 9 settembre del 1944, oibo, un anno dopo, c'è un colpo di Stato. È un nuovo governo che dichiara guerra alla Germania. In Finlandia la guerra era già finita tra il 4 e il 5 settembre 1944, ma ci sono soldati tedeschi in Finlandia. L'Unione Sovietica pretende che entro due settimane i finlandesi buttino i tedeschi fuori dai confini. Lo faranno senza farsi troppi problemi. Gli ungheresi ricominciano le manovre di sganciamento, ma ad ottobre i tedeschi scoprono tutto e intervengono di nuovo, mettendo al potere il governo delle crociferciate di Ferenz Salasi. Bell'elemento, oggettivamente. Ma passiamo un attimo alla questione più importante. Allora, Hitler tradiva spesso e volentieri, anteponendo gli interessi nazionali agli impegni presi. Esiste un solo patto importante che Hitler abbia continuato a rispettare anche quando non gli era più conveniente? Oibo. Se esiste un patto del genere, sull'altro piatto della bilancia, quanti ne ha violati Hitler? Punto di domanda grosso come una casa. Il comportamento di Hitler nei nostri confronti, e questa è una cosa estremamente importante, meritava che l'Italia si trasformasse in un docile cane? I cani sono fedeli fino alla morte, gli stati no, perché gli stati hanno cose più importanti da fare. Alcuni sono in grado di farlo meglio e altri peggio. Il franchismo si dimostrò un gigante rispetto al fascismo italiano, perché si diede un obiettivo raggiungibile senza scommettere tutto alla roulette della seconda guerra mondiale. L'amico Paolo Alpini usa la metafora della roulette, io sono solito dire che Mussolini ha giocato le chiappe del popolo italiano sul tavolo da poker della storia, ma siamo lì. Alla vigilia del 25 luglio 1943, quasi l'intera classe dirigente italiana, a parte quell'imbecille di Farinacci che lo stesso Goebbels definiva maldestro imbecille per non dire totale coglione, chiusa parentesi, dicevo quasi l'intera classe dirigente italiana era consapevole che la guerra era ormai finita, persa. Era così anche per molti gerarchi e il disastro dell'8 settembre è l'ennesima manifestazione dell'incapacità nel condurre il paese in guerra. Non c'entra nulla con la fattibilità del proseguimento della guerra. Quando una parte della popolazione, come in Sicilia, festeggia gli invasori, non è finita solo da un punto di vista materiale. I singoli possono essere personalmente fedeli ad un ideale fino alla morte. Pretendere che lo sia un intero popolo oggettivamente è fuori dal mondo. Insomma, direi che l'amico Paolo Alpini non ne ha sbagliata una in queste definizioni, ok? Fu così anche per i giapponesi nell'agosto del 1945 e a proposito di Giappone la Germania si arrese nel maggio 1945 senza dire niente ai giapponesi e il Giappone ne arrestò i diplomatici per rappresaglia. Allora, cari signori, 8 settembre 1943. Il tradimento. Allora, come ha spiegato benissimo l'amico Paolo Alpini, tradimento, insomma, siamo sinceri, cosa vuoi tradire? Cosa vuoi tradire? Vuoi tradire un alleato che ti ha sempre trattato come un cane da bastonare? Vuoi tradire un alleato che nel corso degli ultimi dieci anni non ha fatto altro che prenderti per il culo, violare tutti i patti possibili, immaginabili e soprattutto, e soprattutto, fregarsene allegramente del, insomma, come dire, fregarsene allegramente dell'alleato facendo quello che cazzo gli pareva? Insomma, essere fedeli, insomma, fedeli a chi? Fedeli a che cosa? Eravamo in condizioni disastrose, ok? E mettiamoci anche il carico da briscola, il carico da undici di briscola, a proposito delle intenzioni che Hitler aveva per l'Italia, perché ricordiamoci che il 9 settembre Hitler già si annetteva Friuli, Slovenia italiana e Alto Adige e inoltre prevedeva il 23 settembre che il Veneto diventasse indipendente sotto influenza tedesca. Bella considerazione che aveva il Führer dei noi italiani, ma questo qui è decisamente, come dire, indiscutibile, ma stiamo sempre lì a discutere di tradimento di questo, quello o quell'altro. Gente, nel giro di un anno, e ripeto e sottolineo, nel giro di un anno tutti gli alleati europei della Germania si sganciarono, chi più o chi meno con successo, dall'alleanza con la Germania. Ci fu addirittura la rivolta slovacca, che non ne volevano più sapere di avere a che fare con i tedeschi, perché sapevano che i tedeschi erano finiti, condannati, che si erano resi complici di una guerra spaventosa e criminale e che ne avrebbero dovuto pagare le conseguenze. Tutti gli alleati dei tedeschi cercarono di sganciarsi, e alcuni ci riuscirono, gli ungheresi no, tentando di limitare i danni. E questo qui, oggettivamente, gli altri, persino i romeni, gestirono l'abbandono dell'alleanza con i tedeschi meglio di noi. Tra l'altro, vorrei anche dire una cosa. A quelli che parlano di onore, 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 onore e onore, ok? Onore, fedeltà, la parola data, eccetera, eccetera. Vorrei ricordare un eroe, un grande eroe, un grand'uomo, un personaggio straordinario, un uomo eccezionale per valore e coraggio, che aveva l'onore non come semplice parola vuota da ripetere a pappagallo come fa qualcuno, ma un uomo che l'onore lo aveva nel cuore, nel sangue e nell'anima. E parlo del colonnello Alberto Becchi Luserna, che l'8 settembre 1943 fu vilmente assassinato, e ripeto, vilmente assassinato da gente che si era ammutinata, rifiutandosi di obbedire a precisi ordini. Ah, altra cosa, farò un altro video in cui spiegherò come, come, sciaboletta, bagonghi e badoglio avessero emanato ordini ben precisi su come comportarsi con l'armistizio, ma si trattò di ordini che non vennero rispettati, e vi spiegherò anche perché. Però intanto vorrei chiudere questo video con ricordo, veramente, di quel grand'uomo che fu il colonnello Alberto Becchi Luserna, un eroe, uno straordinario eroe, uno che veramente aveva una concezione vera, sincera, totale e assoluta della parola onore, assassinato vilmente e vigliaccamente da coloro che si ammantarono di quella parola onore e fedeltà all'idea. E io dico soltanto una cosa, a quelli che starnazzano di onore e tradimento, direi solo di vergognarsi pensando a quello che è stato fatto al colonnello Alberto Becchi Luserna. Lui sì che era un grande uomo, lui sì che era un eroe, lui sì che aveva la concezione dell'onore assassinato, ucciso, ammazzato a sangue freddo come un cane perché cercava di fare il suo dovere di ufficiale e di soldato, cercando di fermare un ammutinamento insensato. Che vi devo dire? Cosa vi devo dire? La tragedia dell'8 settembre italiano, a parte la cattura dei nostri soldati, a parte la sventurata situazione del nostro esercito, si riassume nella figura di un solo uomo, il colonnello Alberto Becchi Luserna. Un eroe di guerra, uno straordinario, valoroso, un uomo di straordinario valore, assassinato in maniera brutale e vigliacca da gente che ha osato ammantarsi, coprirsi, sbandierandola dalla parola onore. Becchi Luserna aveva onore, chi lo ha ammazzato no. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione, questo è il primo video di una breve serie dedicata all'8 settembre. Come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate e aspettate un attimo per i prossimi. Aspettate un pochino di tempo per i prossimi. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate, commentate, scrivete, datemi i vostri giudizi, datemi le vostre valutazioni, datemi le vostre fonti. Ok? Io sono qua, io come sempre vi aspetto, io come sempre, ci metto la faccia e non mi nascondo. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio di tutto cuore e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buona serata.